Cacciare testa di metallo? Benissimo! Frena, Jack! Anche tu, cicciobello! Avete fatto i conti senza di me, Cocchi! Perché non esiste proprio che io vada ancora là fuori, in mezzo a quelle teste di metallo! Sig vi darà le istruzioni necessarie! E così tu vorresti fare il cacciatore, giovanotto! Beh, vedremo cosa saprei fare quando saremo là fuori! Crew vuole dei nuovi trofei da appendere nel suo saloon e io gli porterò cinque teste di metallo prelevate dalla stazione di pompaggio! Non fartela sotto, bestiolina! Perché noi andremo in giro con questo Pismac! Wow! Voglio anch'io uno di quei cosi! Dove si prendono? Non fare domande! Sig ha bisogno che qualcuno gli copra le spalle mentre cerca le teste di metallo, intesi? Ci troviamo alla stazione di pompaggio! E ricordate, bambini, non fatemi aspettare troppo! Non è un posto sicuro! Ci andiamo subito! Stai lontano da me! Ah! Stai lontano da me! Ah! Ah! Stai lontano da me! Ricerca su Steffi Incluso. Guarda il valore, Fraxin! No! Per favore! Per favore! No! Per favore! Per favore! Comunichare la descrizione dei sospetti. Ricevuto. Se chiamate l'attenzione. Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Esci dalla città a tuo rischio. Salve, miei piccoli amici. Siete pronti a dar la caccia alle teste di metallo? Allora seguitemi e copritemi le spalle. Ci sarà da divertirsi. Andiamo! Cominciano i problemi. Seguimi! Resta dietro di me. Sparo al serbatoio. A questa parte! Ottimo, ragazzo. Ma non ti buttare la testa. Mi avevi pezzo? No. No. Attraversiamo il ponte prima che tornino. Ecco il primo bersaglio. Tenete lontane le creature mentre carico il Peacemaker. una testa di metallo servita rovente andiamo al prossimo obiettivo falli fuori tutti con le teste di metallo prima si spara e dopo si fanno domande resta vicino saremo morti ecco il secondo rifiuto tutto per noi coprimi una testa di metallo in meno prossimo bersaglio abbassa quel trespolo io li trattengo grande ma non c'è tempo guardami le spalle mentre io friggo questo rottame il trucco sta nel non colpire i tubi questo è quello che chiamo far fuori qualcuno pagli a pezzi serve uno strumento accurato questa volta è Oh no! Oh no! Attenzione! Abbiamo compagnia! Accidenti! La mia arma è inceppata! Preparo! Devo sistemare la mia arma! Ok! Il filmmaker funziona di nuovo! Buon lavoro! Grazie per la copertura! Già, c'è mancato poco! Ultimo bersaglio! Poi si va a casa! Di le tue preghiere, piccolo! Boom! Cinque punti per noi, testa di metallo zero! Ragazzi, era l'ultimo! Dite al crew che li abbiamo cucinati per bene! Io pulisco il tismaker e raccolgo trofei! Niente male, non è vero? Fine decontaminazione! Chiudete l'aria! Sei stato bravo a liberare il mondo da questa minaccia metallica. Come premio ti dono un po' di potere oscuro! Accesso è vietato! Ma tu li ha vinto, settore no! No! Una via! La mia via! Entra nella guardia Kremisiela! Passa al settore successivo! Passa al settore successivo! Passa al settore successivo! chodzi sui! Passa alle corretveri!! Passa al settore successivo! L'attività sospetta in questo sito. L'attività sospetta in questo sito.